Oggi non si può prescindere dall'ecumenismo perché la divisione tra i cristiani non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la più santa delle cause e la predicazione del Vangelo ad ogni creatura. È la riflessione che Papa Francesco ha voluto condividere con l'Arcivescovo di Uppsala della Chiesa Evangelica Luterana di Svezia. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha espresso soddisfazione per gli sforzi fatti fino ad ora, incoraggiando ulteriori passi nel cammino dell'unità, soprattutto alla luce della testimonianza offerta dai cristiani perseguitati. Di urgente attualità è poi la questione della dignità della vita umana, sempre da rispettare, come pure lo sono le tematiche attinenti alla famiglia, al matrimonio e alla sessualità, che non possono essere taciute o ignorate per timore di mettere a repentaglio il consenso ecumenico già raggiunto. Sarebbe un peccato se in queste importanti questioni si consolidassero nuove differenze confesionali.